Sono qui un po' per interesse e un po' per amicizia, ho la fortuna di essere un amico di Dolce Italia e nel momento in cui mi è arrivato l'invito non potevo far altro che venire ed essere presente a questa stupenda fiera qui a Milano. E ovviamente poi c'è la parte interesse, noi del Taekwondo organizziamo un evento che si chiama Kim and Liu e ci sono circa 2000 bambini ogni anno e ovviamente l'obiettivo è quello di portarlo a crescere in questi anni e perché no magari associarlo a tantissimi dolciumi che sono qui presenti. Non è la prima fiera che vado a vedere ma sicuramente è organizzata molto bene e per quanto mi riguarda essendo un amante del cibo sicuramente la fiera giusta per me.